Dare una vera opportunità ai giovani artisti locali per fare esperienza su di un palco nel segno di una proficua cooperazione con altri musicisti magari più esperti. È stato l'obiettivo raggiunto dall'evento Trani Christmas Show, giunto alla sua seconda edizione con presepe in musica ed organizzato dall'associazione di promozione sociale annunciate dai tetti e dal gruppo In Art Music Project. La magia della musica si è unita al fascino del racconto, brani celebri e tradizionali del periodo natalizio e pop eseguiti da musicisti e cantanti talentuosi alternandosi al racconto di giovani attori per un'esperienza che è risultata suggestiva e avvolgente. L'evento è stato organizzato con il supporto di Don Domenico Bruno e della docente Luciana Impero che si è occupata di creare i dialoghi narrati durante il corso della serata da due giovani ragazzi che studiano recitazione. Nel frattempo In Art Music Project con il coordinatore e direttore artistico Carlo Ronco ha segnato un momento importante del suo percorso dopo la nascita nel 2023. Obiettivo, come detto, diventare un punto di riferimento per tutti quei giovani cantanti e musicisti che al di fuori dei contesti scolastici e accademici non hanno la possibilità di esibirsi dal vivo. Al progetto stanno cooperando anche musicisti più esperti come per esempio il pianista e arrangiatore Alessandro Giusto, il sassofonista Giuseppe Massaro, il violinista Alfonso Mastrapasqua e l'oboista Giulia Marzano. Un folto gruppo che al momento conta già quasi 30 elementi.